Con il risveglio della natura in primavera inizia anche la stagione dei pollini e dunque un difficile periodo di sofferenze per molti allergici. In Svizzera sono circa 1,2 milioni le persone allergiche, ossia circa il 15-20% della popolazione. I farmaci e le terapie più diversi leniscono i sintomi quali il continuo starnutire e gli occhi lacrimosi. La soluzione migliore sarebbe quella di non entrare affatto in contatto con i pollini. Tuttavia, se si pensa che il fiore di un unico filo d'erba contiene circa 4 milioni di microspore, si comprende che è difficile sfuggire alla natura. Anche a casa propria, pollini e polveri sottili diventano un problema, soprattutto quando si aprono le finestre per ventilare. Un sistema di ventilazione comfort offre protezione. Il sistema di filtrazione impedisce che le microspore penetrino nell'abitazione. Il risultato sono notti tranquille senza irritazione. L'impianto di ventilazione comfort crea un gradevole clima ambientale privo di polveri sottili e pollini. Zenda. Always the best climate. L'impianto di ventilazione comfort offre protezione.